Sono Danilo Aragona, ho 35 anni e nel 99 ho avuto un incidente che mi ha portato ad essere in carrozzina. Dopo i primi anni, due anni chiaramente di difficoltà per cercare quel mio nuovo equilibrio in questa nuova condizione, mi sono riscritto all'Istituto Europeo di Design ed è così che l'ultimo anno ho partecipato a un concorso di re di impresa, ho presentato la carrozzina che indosso, una carrozzina che poi ho brevettato, multifunzionale, B-Free Multifunction e ad oggi produco e commercializzo. Il programma Autonomy nasce nel 1995 proprio per rispondere a un'esigenza particolare, di una clientela particolare. Lo slogan è mobilità per tutti, la Fiat essendo produttrice di automobili e quindi del mezzo principe per garantire una mobilità, non poteva certo non impegnarsi in questo programma. Tutta la gamma del gruppo oggi è trasformabile, sia per persone che hanno necessità di trasformare una vettura per la guida o per persone che non possono guidare e quindi hanno bisogno di trovare un mezzo che li garantisca un trasporto in sicurezza e in comodità. Il programma chiaramente è dedicato alle persone che hanno diritto alle agevolazioni fiscali. Ha focalizzato in tutti questi anni un'attenzione alla sicurezza, al comfort e alla possibilità di garantire variate tipologie di allestimenti. L'impegno dell'autonomy è legato anche all'ottenimento della patente speciale. Per questo sin dal 1995 abbiamo creato dei centri di mobilità dove aiutiamo queste persone attraverso l'utilizzo di un simulatore che in realtà è un valutatore di capacità residue e cognitive, li aiutiamo a prepararsi per andare in commissione medica che è un ufficio pubblico preposto al rilascio della patente speciale. Questi simulatori sono altamente tecnologici e permettono a queste persone di avere una prima ipotesi di trasformazione della vettura. In tutti questi nostri centri ci sono delle vetture del gruppo multiallestite che quindi permettono a diverse patologie di provare concretamente se quello che è venuto fuori dai test del simulatore è realmente poi la condizione per loro più sicura e più idonea per la vita. Fiat Autonomy ha un suo programma sulla mobilità molto interessante sia per le sue funzionalità di prodotto ma soprattutto anche per il modo con cui questo veniva comunicato con proprio il senso di libertà, indipendenza e autonomia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.